Gli stranieri in Alto Adige sono 40.000, il 9% dell'intera popolazione, e provengono da 125 paesi, con albanesi, tedeschi e marocchini a guidare la classifica, ma con il numero di rumeni e slovacchi più che triplicato dal 2005. E tra nuovi arrivi e seconde generazioni il numero continua a crescere. I bambini nati da genitori stranieri, dice uno studio Eurac, sono passati da 158 nel 1999 a 663 nel 2009, quota che rappresenta il 18,5% delle nascite totali in provincia. I dati sono stati illustrati dall'Istituto sui diritti delle minoranze dell'Eurac. Lavoro e famiglia sono le ragioni che spingono la maggior parte degli stranieri a stabilirsi in Alto Adige. Per queste due motivazioni venne rilasciato quasi il 92% dei permessi di soggiorno. Il rapporto tra la componente maschile e quella femminile è notevolmente cambiato nel corso degli anni. Se i maschi sono stati i pionieri della migrazione, dal 2007 le donne hanno superato gli uomini. Questa inversione di tendenza è legata al crescente numero di ricongiungimenti familiari e ai nuovi flussi migratori prevalentemente femminili provenienti dall'Est Europa. Nell'ambito del Fondo Sociale Europea da anni finanziamo progetti anche in questo settore, in particolare a favore dell'inclusione sociale e lavorativa degli stranieri che è una politica sostenuta anche dall'Unione Europea, in particolare dalla Commissione, perché ritiene che la nostra società possa funzionare solo così includendo tutte le risorse disponibili sul nostro territorio. Triplo è anche il numero di figli di stranieri iscritti alle scuole in lingua italiana rispetto a quelle tedesche. Infine la salute, al pari di quanto succede agli autoctoni, anche tra gli stranieri la patologia più diffusa è l'ipertensione, seguita dalle malattie legate al sistema respiratorio e dal diabete.